Secondo le statistiche di youtube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Grazie a tutti, grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti, grazie a tutti! 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 Questa è? Ok Abba di catabra Dimenti Adabra 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 Non si non è possibile Non si è possibile ho deciso Sì, perché è specificamente Mona che stiamo parlando, cosa about the others? Perché io ho cercato di fare un'efforto a collegare con Mona, perché siamo le only girls in questo whole gang, e, e l'abbiamo sincero, c'è un motivo che siamo le only two girls in questo whole fucking gang. Right. So, wait, what's the reason? Because all of the guys are just pigs, basically, and just constantly make demeaning remarks and sexual remarks 100% of the time. Oh, oh, shit. Towards women in general. So why would another woman want to join this gang if that's what they're doing? Oh, my God. I mean, I personally don't see it that way. Yeah, but maybe there's shit that I haven't seen, but I have never seen that at all. I mean, that's one reason I do not hang out with them. Okay. Bye. Oh eina! uccia alno pan mazzario a domo molto prima che ide la tôl'ata faccio a poco a poco a poco dopoちょっと確認してほしくて dove per carizano chiuso sei là ok su chi con今 no antonici no 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 Sì noi 夏の冬休みって何? demonina Non so che piro Voi tutto questo che ti arrivi E' l'ostante E' l'ostante Ma è una volta che piro E' l'estrata Moittà Bolling è senza non? Oggi A 먹는à Ladao Noi Dori Sì Ah Bergamo Ciadinanza Immagino Ancora C tickersine Ok ok Arte fact Oh Main Fatti Fatti C'è quello che c'è? qui è torre e e qui e qui è molto inizioso è stato un po' di più è stato un po'